Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale, buona giornata, un brevissimo aggiornamento per il caso di Vincenza Saracino, questa donna, 52 anni, come ricordate che il 2 luglio scorso fu uccisa a cortellate a Canizzano, vicino a Treviso, ricordate questa donna che gestiva questo sexy shop e in quell'ambito, si è sempre detto dal primo momento che in quell'ambito c'era da indagare e in quell'ambito si doveva trovare il colpevole e che da un momento all'altro ci sarebbe stata la svolta. Questa svolta noi continuiamo ad attenderla e dispiace, ecco, dispiace che alcuni giornali, forse, non so, per fare audience, magari per fare visual, per vendere copie di giornali, anche i cartacei, titolano a tutta pagina, svolta nel caso di Enzo Saracino, individuato il killer. Mi sembra una cosa, un titolo fatto bene? No, perché se fosse stato così il killer sarebbe stato già assestato, mi sembra ovvio. Quindi non è stato individuato il killer, il cerchio si stringe, ma questo cerchio quanto tempo ci vuole per stringersi? Deve essere, leggo qui, deve essere un conoscente della vittima, ecco, grande filosofia, deve essere un conoscente della vittima. Ci si è arrivati dopo tanto tempo. È ovvio che in qualche modo Enzo Saracino doveva conoscere, avere una fiducia, una confidenzialità con questa persona, perché se la donna dopo aver fatto spesa e prima di rientrare a casa fa una deviazione, si rega in un posto abbastanza isolato, è ovvio che si rega perché ha fiducia che questa persona non gli può fare del male o comunque è una persona di sua conoscenza. Quindi è stato individuato il killer. Il killer ha le ore contate su un'altra agenzia. Ora, cosa pensare? Se fosse vero si potrebbe sempre pensare in questo atteggiamento fideistico di dire ma loro gli inquirenti sanno quello che fanno e allora potrebbe essere, ecco, possiamo immaginare, possiamo supporre che gli inquirenti possano allora aver messo in giro questa voce di avere individuato il killer che lo stanno monitorando, stanno vedendo. Perché potrebbe essere questa l'ipotesi? Perché magari hanno individuato, diciamo così, un ventaglio di persone che più o meno sono sospette, che hanno qualcosa di sospetto, magari 3, 4, 5, 6, 7 persone, e che magari facendo uscire queste notizie in cui si dice è stato individuato il killer, il killer ha le ore contate, eccetera, magari tenendo sotto osservazione questo ventaglio di sospettati possa succedere che la persona non so, va in allarme, si tradisca, faccia qualcosa di inusuale, diciamo così. Certo che, certo che l'aggressione così come è avvenuta e il fatto addirittura che l'assassino abbia agito così rapidamente poi abbia avuto la lucidità, diciamo così, di prendere la bici e di nasconderla fra la folta vegetazione, questo perché? Per fare in modo di ritardare, ritardare, insomma, l'individuazione del corpo, perché una bici lì in bella mostra avrebbe attirato subito le ricerche. Quindi, diciamo che questo assassino si preoccupa di nascondere la bici per guadagnare tempo, diciamo in questo modo, però dobbiamo pensare a un assassino che non si preoccupa della cosa più ovvia, cioè prendere il cellulare della vittima, di Vincenzo Saracino, che rimane lì proprio accanto al corpo. Allora cosa bisogna pensare con questo? Certamente o è un esore eclatante dell'assassino, ma non credo oggettivamente che possiamo pensare a questo, oppure dobbiamo pensare a un killer, ecco, questa è un'altra idea. Cioè a un killer che non teme di poter essere individuato tramite cella telefonica, tramite contatti, perché egli non ha avuto magari direttamente contatti, se è un killer mandato a, se è una trappola, allora il killer dice il telefono può rimanere anche lì, tanto non potranno risalire alla mia identità. Quindi, però, se così è, il killer vuol dire che c'è un mandante. Quindi, poi le cose si fanno un po' più complicate e quindi l'esame del telefono comunque è importante perché dovrebbe aprire a delle prospettive, a delle ipotesi. Quindi c'è un motivo per cui questa donna ha fatto questa deviazione, per cui quel pomeriggio, insomma che sembrava un pomeriggio normale, lei avvisa la figlia di dire tra 10 minuti o 15 minuti sto a casa e quelli poi 10-15 minuti trova la morte. Quindi, credo che non sia stato individuato il killer, che che se ne dica, perché il killer potrebbe essere anche un personaggio che è stato mandato da qualcuno. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto di abbandonare il cellulare che, come dire, sarebbe un testimone troppo immediato. Se questa persona era uno che magari aveva telefonato a lei mezz'ora prima, 10 minuti prima, due ore prima, è ovvio che fai uno più uno fa due e allora hai dato appuntamento. Quindi non può essere così, non può essere andata così la vicenda. Ecco perché al di là di queste fake news, diciamo, si spera, si spera che sia appunto un atteggiamento degli inquirenti che, avendo individuato una rosa di nomi, di sospetti, diffonda queste notizie per vedere, per monitorare se qualcuno di loro fa qualche comportamento anomalo. Quindi continuiamo a seguire questo caso che è molto importante, molto interessante e vi prego di condividere questo video con tutti i vostri amici e le vostre amiche. Grazie e un abbraccio a tutti quanti voi.